Assicurato il trasporto per i disabili sino alla fine dell'anno scolastico, a darne notizia il commissario straordinario della provincia di Ragusa Giovanni Scarso, che fa sapere che grazie alla disponibilità delle cooperative che operano nel settore socio-assistenziali, si è riusciti a garantire il servizio trasporto urbano degli studenti diversamente abili delle scuole superiori sino al termine dell'anno scolastico. Il commissario Scarso, dopo un incontro con i rappresentanti delle cooperative, ritiene di poter tranquillizzare gli studenti e le loro famiglie che i servizi socio-assistenziali per gli studenti disabili degli istituti superiori verranno assicurati in pochi giorni che mancano alla chiusura dell'anno scolastico. Di fronte alle difficoltà finanziarie dell'ente che sino al 31 maggio 2013 ha assicurato i servizi senza procedere ad alcun taglio a ferma Scarso e impegnando gran parte delle somme del bilancio per questo servizio essenziale e all'appello avanzato ai rappresentanti delle cooperative sociali, ho registrato la disponibilità di gli stessi ad operare per questo piccolo scorcio di anno scolastico. Devo mettere in evidenza la sensibilità di queste cooperative, dice che hanno inteso perfettamente la fase congiunturale che la provincia sta vivendo e la preoccupazione di studenti e familiari di chiudere in maniera non traumatica l'anno scolastico. Una piena condivisione delle sei cooperative, ad eccezione di una che si è riservata di dare risposta alla provincia nelle prossime ore e mantenere il servizio per i pochi giorni di giugno consapevole di non far venire meno, conclude Scarso l'assistenza nei confronti degli studenti diversamente abili.